Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV della nostra emittente. Oggi ci occuperemo di mobilità, trasporto, ferroviario, ma non solo, con il coordinatore provinciale della CUP Trasporti, Pippo Guriri. Buonasera. 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 Coordinatore, iniziamo un po' dai fatti regenti. La scorsa settimana, qualche giorno fa, ci doveva essere un incontro a Palermo, che però è slittato al 5 marzo, e lei mi diceva prima, visto un po' gli impegni della campagna elettorale. Questo incontro a Palermo, a cosa serviva, di cosa si doveva parlare? Questo è il terzo slittamento, tra l'altro, perché l'incontro è stato già deciso, fissato, durante la riunione della Commissione Provinciale sulla Mobilità a Ragusa, per tre settimane fa si doveva fare praticamente a caldo, in quanto c'era una specie di emergenza che era legata al fatto che da quasi un anno, ormai possiamo dire da un anno, non si riesce a mettere in piedi questo trasporto per gli studenti pendolari di Vittorio e Comiso verso l'Istituto Alberghiero di Modica. Per delle fesserie, cioè sostanzialmente questo servizio è saltato perché non si è trovata la soluzione del trasporto poi dei ragazzi dalla stazione di Modica a scuola. Questo pur avendo già individuato delle soluzioni molto semplici, a costo zero, cioè che l'AS doveva utilizzare dei pullman che poi gli rimanevano vuoti dopo i primi viaggi a scuola, da Modica, tragitto stazione scuola. Si era interessato il prefetto, eccetera. Quindi questo era uno dei punti centrali per cui noi avevamo sollecitato la riunione della Commissione per fare sì che quantomeno si vedesse questa situazione e si impostasse il trasporto almeno per l'anno prossimo, ma farlo in tempo, considerando che quello di quest'anno ci abbiamo pensato anche l'anno scorso e non si sono riusciti a farlo partire. Ecco, facciamo un passo indietro. A settembre, quando è iniziato l'anno scolastico, i ragazzi si sono trovati un po' spiazzati perché l'AS aveva tagliato delle cose. Allora, io la colpa maggiore di questa questione la do alla classe politica e anche amministrativa locale, perché noi sin dal marzo del 2012 avevamo approntato una piattaforma, tra l'altro siamo venuti anche a presentarla qua negli vostri studi televisivi, un progetto complessivo di rilancio della rete ferroviaria locale che comprendeva anche uno spostamento di quote di studenti già individuati sul treno. Questo sarebbe servito a salvare la ferrovia, diciamo, potendo dare l'occasione di riempire i treni pendolari delle fasce, diciamo, mattutina e del primo pomeriggio e questo avrebbe, diciamo, tolto ogni ale, biatta in Italia, di smettere qua la linea. Su questo discorso noi abbiamo fatto parecchie riunioni con i vari sindaci, compreso quello di Comiso, consigli comunali aperti e altre cose. C'era l'accordo, diciamo, generale, al solito, all'unanimità, però poi non si era mosso niente, non si era riuscito a avere un incontro a Palermo con l'assessorato e con l'Italia. Quando a giugno l'asta ha anche comunicato che avrebbe smesso certe corse per gli studenti pendolari, in particolare precisando quelle di Vittorio e Comiso verso Modica, naturalmente il nostro progetto non solo era ormai un'idea, ma era una necessità, era diventata una necessità. Per cui siamo ritornati a ribadire ai comuni, guardate che adesso non si tratta più di inventarsi questa cosa, ma voi avrete gli studenti a piedi all'inizio della scuola. Ebbene, non si è mosso niente, la provincia ha sollecitato più volte incontri a Palermo e non è riuscita a ottenerli, anche qui la classe, per esempio la deputazione ci ha addormito, non ha dato nessuna mano. Per cui il giorno prima dell'inizio delle scuole, così per miracolo, si scopre che gli studenti non avevano i pullman, si scopre, dopo che da mesi noi avevamo avvisato tutti. Quindi si è arrangiato un servizio il giorno prima, mettendo questi studenti sul treno, senza che però fosse stato organizzato questo trasporto sul treno, quindi utilizzando quello che c'era in maniera improvvisata. Per cui Trenitalia aveva solo una lettorina, ha dovuto mettere un pullman per rinforzarla, si è scoperto che poi questi studenti dalla stazione a Modica non sapevano come andare a scuola, e quindi la provincia ha tamponato per due settimane con 2.000 euro pagando delle corsette private, poi finiti i soldi, tutto è finito di nuovo nel caos. Insomma, alla fine è finita, per farla breve, che le famiglie si stanno pagando di tasca loro questo trasporto con una ditta privata da Comice e Vittoria fino a Modica. Ad oggi il costo per famiglia, per giù quant'è? Il costo è molto alto, perché mi risulta che da Comice pagano 94 euro al mese e da Vittoria 111 euro. Andate e ritorno, andate a scuola tutti i giorni. Però mi risulta anche che alcune famiglie che hanno più figli che vanno a scuola, e in questo comune sono quasi tutti pendolari, hanno ritirato anche i loro figli dalla scuola perché gli veniva veramente un lusso pagare questo servizio. Mi risulta anche che il comune di Vittoria sta anticipando queste somme alle famiglie nella speranza di poterle recuperare dalla regione, mentre il comune di Comice non riesce a fare questo per i ben noti motivi finanziari e quindi sono soldi che escono alle famiglie, che probabilmente non saranno rimborsati in quanto, essendo l'Ast, la tenutaria del contratto di servizio su questa tratta, è solo viaggiando con l'Ast oppure col treno che si ha diritto al trasporto, con la ditta privata no. Quindi c'è una situazione veramente a questo punto per riepilogare, molto caotica e molto antipatica, in cui le famiglie spendono dei soldi per delle ditte private, mentre noi abbiamo i treni che viaggiano vuoti, ed è uno sperpero di risorse pubbliche che viaggiano vuoti, quando alla fine la nostra proposta era quella, mandiamo gli studenti sul treno e poi con due pullman che fanno le corsette, al limite le famiglie si pagano solo il trasporto urbano, modica, scuola, che viene con 20 euro al mese, mentre viaggiendo sul treno avrebbero avuto i rimborsi e tutto. Purtroppo, diciamo, su questa cosa che è apparentemente banale, che in tutto il mondo si fa, che la gente arriva da fuori comune, nel grosso comune, scende e prende poi i pullman urbani, i servizi urbani, qua diventa un'utopia, qua diventa una cosa impossibile, non c'è nessun politico, nessun sindaco, nessun Presidente o Commissario della provincia che riesce a fare partire questa cosa. E a Palermo, diciamo, durante la riunione di Palermo, cosa dovete discutere, la vostra proposta concretamente? Perfetto, la nostra proposta a Palermo è quella, è quella, uno, individuato che il problema è solo quello delle corsette a modica, impostare, imporre all'Ast, che è un servizio pubblico pagato da tutti noi, di fare queste corsette e già c'è i pullman vuoti dalle otto in poi che lei può utilizzare. Due, naturalmente, imporre a Trenitalia di fare un servizio efficiente, cioè non più una lettorina ma due lettorine la mattina da Comiso e Vittoria, di modo che gli studenti non abbiano disagio, alcuni col pullman, alcuni col treno, e naturalmente fare sì, visto che il Comune di Comiso, per esempio, ha richiesto più volte che tutti i suoi studenti pendolari, non solo quelli per modica, viaggiassero su treno, perché Comiso manda un sacco di ragazzi a Ragusa, la maggior parte, allora fare sì che anche gli studenti che vengano a Ragusa possano soffrire del treno, almeno quelli di Comiso, no? E quindi si andava lì con questo obiettivo, aggiungendo anche, per esempio, lo sblocco dei fondi e quindi del progetto per la metropolitana di superficie a Ragusa, che è una cosa che ormai sta facendo la muffa da 1995. Qui siamo all'anno zero, perché non si è iniziato mai. Che tra l'altro, questo discorso della metro a Ragusa, che potrebbe essere un servizio che potrebbe già partire con poche fermate essenziali, tra cui una sarebbe quella che è proprio vicina agli istituti scolastici, il chimico, il magistrale, per cui i ragazzi che vengono da Comiso scenderebbero in quella fermata che è molto vicina alle scuole, per dire vicino al centro delle masserie, o ce n'è un'altra anche più su, nella zona che si chiama Ragusa e i Cupolibbi. E quindi praticamente questa cosa, partendo già con due minime fermate essenziali, già servirebbe anche per questo servizio pendolare. Quindi noi andiamo a Palermo con due o tre cosette basilare e minime che dovrebbero servire quantomeno a mettere finalmente un punto finale a questo discorso e sapere già che quest'anno, quando a giugno finiscono le scuole, da settembre il trasporto sarà quello. E' successa però una cosa, è successa che mentre noi ce la discutiamo e ce la cantiamo e cerchiamo di fare questi incontri, il Trenitalia, che sempre naviga in Sicilia senza un contratto di servizio con la Regione, ha comunicato un elenco di tagli di nuovi treni, sono circa 100 in Sicilia, di cui un gruppo sono di nuovo in questa tratta. Per cui noi ci veniamo a trovare, mentre cerchiamo, come sempre è venuto in questi anni, di fare ripartire la situazione, ci troviamo a essere spiazzati nuovamente con ulteriori tagli. Quindi ad oggi la provincia di Ragusa è sempre più isolata, anche perché oltre ai tagli alle ferrovie ci sono stati anche tagli alle corse di Pullman per una crisi che riguardano le finanze della Regione. Quindi a questo punto la situazione è piuttosto complicata. Una domanda le voglio fare. Secondo lei perché ci sono queste resistenze? Alla fine non si tratta di cose eclatanti, ma io credo che nella psicologia della classe politica dei deputati eccetera il problema ferroviario sia un problema rimosso da tempo che periodicamente tirano fuori quando noi li andiamo a sollecitare. Però subito dopo, cinque minuti dopo, appena abbiamo finito le riunioni, viene dimenticato. Purtroppo è questo, perché io vorrei chiedere all'On. Assenza, all'On. Di Giacomo per esempio, quante volte da quando noi sollecitiamo questi temi, anche da quando si è riunita la prima riunione della Commissione Mobilità che si è riunita già due mesi fa, poi un mese fa di nuovo, cioè a dicembre, sono andate dall'assessore Bartolotto, nuovo assessore ai trasporti in Sicilia, alle infrastrutture, a dire guardate che da Ragusa si chiede questo. Quante volte sono andate lì continuamente a fare sentire la propria voce in modo che questa gente, quando poi si siede per prendere delle decisioni, si ricorda che c'è un territorio che continuamente bussa, che continuamente preme, io credo neanche una volta. L'ex sindaco di Ragusa invece sulla metroferrovia? Allora, l'ex sindaco di Ragusa periodicamente ci ricorda che lui sulla metroferrovia ha cambiato idea, e questo ci fa piacere, però vorremmo che oltre a cambiare idea si facessero poi le cose. Ora lui è venuto all'ultima riunione della Commissione Mobilità, alla quale come deputato c'era solo lui e Vanessa Ferreri, e ha peso l'impegno di concordare questo incontro a Palermo che poi è già slittato di due volte. Noi speriamo che lui e anche gli altri deputati questa volta siano tutti presenti, perché qualcuno avrà letto sui giornali, l'avrà sentito in tv, la Regione sta firmando, credo che firmerà il 28, un accordo contro l'Italia per una serie di mega progetti in Sicilia, fra cui la famosa alta velocità light tra Catania e Palermo, sono degli investimenti cospicui che interessano i nodi Catania, Messina e Palermo sempre, le grandi città. Le grandi città. Bene, segretario, siamo in conclusione alla battuta sul MUOS, visto che l'Indoma fa parte anche del Comitato di Ragusa, l'ultima, in questi giorni c'è stata un'uscita dell'assessore Zichichi, a proposito delle antenne e della non pericolosità. Voi come Comitato come l'ha pensato? Guarda, il discorso di Zichichi, io credo che Zichichi non debba stare alla Regione, debba stare in qualche posto per quelli della sua età essere più tranquillo, perché queste sono delle sparate che fortunatamente non vanno danno, fanno solo ridere, perché Zichichi è membro di un governo, non so dove era lui quando quel governo ha affrontato anche con le carte in mano fornite da fisici, da esperti, non solo di propria parte, ma anche quelli lì del Comune di Niscemi, eccetera, avevano documenti in abbondanza sulla nocività dell'elettromagnetismo, no? E quindi che lui poi faccia questa confusione sul MUOS che ci serve a difendere, non capisco a che cosa non è assolutamente uno strumento di difesa, uno strumento di comunicazione bellica, che addirittura ci dovrebbe servire contro gli asteroidi, diciamo, stiamo vaneggiando e credo che francamente questo è puro folclore. Bene, noi ringraziamo il coordinatore provinciale della CUP dei trasporti Pippo Guriri, grazie ancora l'appuntamento con i nostri telespettatori per una prossima puntata di 15 minuti con. Pippo Guriri, Pippo Guriri,